Ormai siamo alle fasi finali di questa importante manifestazione che si svolge a Monte Felcino nella piana di Sterpeti Ponte degli Alberi. Come amministrazione e come sindaco sinceramente sono orgoglioso di ospitare questo evento perché è una delle battaglie che viene considerata fra le più importanti addirittura a livello mondiale. Quindi per noi è un onore poterla riorganizzare qui a Monte Felcino, è la terza edizione e coinvolge tantissimi personaggi soprattutto quelli che sono i rievocatori storici che provengono da tutta Italia. Poi soprattutto verranno spiegate le modalità della battaglia dei romani contro i cartaginesi e soprattutto anche coinvolgendo la regione che in questo caso ci dà un forte input così come anche tutte le associazioni locali, anche la provincia, anche il patrocinio e quindi anche con le varie associazioni pro loco e soprattutto i vari comuni vicini che comunque sia in un modo o in un altro sono coinvolti in questo evento. Sono due giorni per il sabato dove ospiteremo i rievocatori che vengono da tutta Italia e staranno sul posto per due giorni consecutivi. Ci saranno dimostrazioni di duelli, di combattimenti che facevano nell'epoca romana cartaginese. Poi dopo la domenica invece sarà il giorno clou della battaglia del pomeriggio. C'è stata una collaborazione generale di tutte le associazioni che hanno contribuito in una maniera che è difficile descrivere ma l'impegno è stato grandissimo per la costruzione di questo villaggio che abbiamo fatto artigianalmente. Quest'anno gestiamo anche i vari punti, il punto ristoro, un contributo per cercare di superire ai costi della manifestazione che sono anche abbastanza onerosi. Quindi vi aspettiamo il 26, il 27 a Monte Felcino alla rievocazione storica della battaglia del Metauro in zona Sterpiti, località Ponte degli Alberi. Ponte deterghrlich. Ponteicker, pianistro, 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 Ponte verk, pianistro, 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 pianistro. Sいました,ports infatti stanno alla relazioni che sono differenzi populi, commercides walk離,